Sì, sì, mi pare che è quello di Kono, del nostro amico Kono. Può essere? Quando vedrò, perché so cosa mi ha mandato, vediamo chi manda Kono. Fiocco Kono, che c'è un ristorante Kono? Grazie, aspettate. Ma per chi ci scriveva Armando? Perché solo per me, è stata gentile. Magari umile e muccare se è quello che penso io. Kono! Per chi ci scriviste solo Armando Kono? Perché sono io che glielo richiesti, sono io. Ah ci richiesti proprio lei ordinati? Sì, così si fa. Mamma mia, mamma mia, che è? Ma che è? Armando, magari cazzo. Cioè Armando ci scriveva tutti i gnoni, a dire in un punto ci scriveva annunzio. Ma concretamente, tu sei un optional. Ragazzi, guardate chi è Kono. Le delizie di Kono. Arrivano da Messina queste cose. Kono? Kono, Kono, Kono. Aspetta, togliamo questo. Vediamo il nostro Kono cosa ci ha inviato. Sicuramente non mi ha mandato un Kono gelato. Un Kono fa i pacchettamenti buoni, non è che... C'è i ghiaccio, gli arancini di Kono. No, vabbè. Questi sono pronti da friggere? Da friggere. E come sono dentro? A ragù, uno si è spaccato, ma sono a ragù. Guardate, uno si è aperto, ragazzi. Braga. Aspetta, aspetta. Kono Armando. Gentile, manda annunzio. Da qua mi scriveva mia. Grazie per aver scelto le delizie da Kono. Gustando i nostri arancini siciliani, nel ringraziarti ti suggeriamo la modalità per la preparazione. Per serviglia è meglio in tavola. Infriggitrice o tegame con olio di semi di girasola. No, non accattare i semi di scassi di girasola, ti suggerisce Kono. A 190 gradi per circa 5-6 minuti o fino alla doratura desiderata e farli riposare per 10-15 minuti, in modo che il cuore prenda per bene la temperatura per far filare bene il formaggio. Per qualsiasi informazione non esitare a scriverci o a chiamarci. Saremo lieti di consigliarti al meglio. Grazie ancora per aver portato la Sicilia sulla vostra tavola. Le delizie da Kono, scelto, a Sicilia la nostra tavola Kono vi riconosciamo in Sicilia magari. Sì, ma non avevamo assaggiato gli arancini deliziosi di Kono. Bellissime. Grazie Kono. Kono appena ne mucammo. Allora, ora si pezzo perché se sono buono o mi mandi gli altri o vengamo noi direttamente. Grazie Kono, grazie le delizie. Guardate chi è Kono, ragazzi è lui qua, in questa miniatura tagliati, che si imbappe. Io li metto in frigo. Sì, metti lì in frigo, scelto. Vabbè. Ora di mo ci facciamo assaggiare a mo Loretana e Debora, a Salve Jessica, a Katia, a tutti. Saluta, va saluta. Ciao. Ehi.